questo è il regno di fuoco la brutta notizia è che è pieno di grane e quella buona? dove ci sono le grane ci sono anche le luci notturne una famiglia di Tuono potrebbe essere dietro l'angolo ci è mancato poco Tuono deve tenere gli occhi a te ACP, quella è la grana più grande che Tuono abbia mai visto se spera di trovare la sua famiglia deve prima riuscire a sconfiggere quella gigantesca grana ali d'italiche a a a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti